Si dimette oggi per problemi di salute il premier giapponese Shinzo Abe. Abe, guidando per otto anni la terza economia al mondo all'insegna dell'Abenomics, è riuscito a mettere in crisi in un sol colpo tutti i dogmi della dottrina liberista. Ci ha mostrato che si possono fare deficit a due cifre, avendo il debito pubblico più alto al mondo e mantenendo tassi di interesse negativi. E ci ha mostrato che si può aumentare costantemente la base monetaria senza provocare inflazione. E lo ha fatto senza alcuna magia, ma limitandosi ad applicare le prescrizioni keynesiane, ovvero attuare politiche monetarie espansive e contestualmente quelle fiscali, in modo tale da scongiurare l'aumento dei tassi di interesse. Ciò è possibile fino al raggiungimento del pieno impiego dei fattori produttivi. In breve, mentre il governo faceva deficit, la banca centrale comprava titoli. Adesso Abe può andare a casa tranquillo, a curarsi, in quanto sta lasciando alle future generazioni giapponesi uno stato senza disoccupazione, con salari elevati e con infrastrutture, scuole, ospedali e massimi livelli di efficienza e tecnologia. Grazie. Grazie.